Vedi di non montarti la testa al nord fino a là devi andare e che devi andare a fare ora al nord aspettano proprio a te proprio a te stanno aspettando vedi non fanno che chiamare non ci fanno dormire la notte per quanto chiamano anche adesso siamo in teatro più o meno e prima o poi un telefono squillerà o vibrerà stai sicuro hai già chiesto se li hanno spenti ti hanno già preso per il culo eh facendosi con la testa senza aver spento nulla stai sicuro che succederà vola basso sei nato qua ma quale nord pensa a studiare giurisprudenza come prima cosa ti lauree in una laurea brutta che serve i delinquenti stanno dalla notte dei tempi altrimenti il ma non ti mettere in mezzo tipo dottore o magistrato no 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 levati da lì tra avere amici pericolosi e combatterli meglio seppellirli e basta buonasera 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 ah no non stavo salutando ma vi pare che affoggio saluti qualcuno non è nel nostro dna a pensare in grande questo spettacolo per esempio senza scenografia giusto qualche elemento anche perché affoggia ce le ruberebbero quindi lo spettacolo sarà comunque interattivo in modo tale che il pubblico non si annoierà e io mi sentirò almeno solo partiamo subito vi chiedo un applauso un applauso alla società foggiana anzi nel particolare al pregiudicato che ha inaugurato il nuovo anno con un bell'augurio social pensando di diventare amministratore delegato dell'azienda ha salutato la mezzanotte con 12 pistolettate augurando il meglio ai suoi sodali e che non ha ancora capito come funziona whatsapp l'atmosfera in città però ad inizio anno è sempre frizzante per dirne una il 3 gennaio 2020 la società ha piazzato una bomba sotto l'auto del responsabile di una clinica per anziani chiamata il sorriso la società preferirebbe un altro nome cazzoridi la bomba è stata messa subito dopo le feste non riuscendo a organizzare il pacco natalizio hanno optato per il classico pacco bomba d'altronde a tritolo donato non si guarda in bocca no ok ok partiamo titolo frichigno dicesi frichigno quando in una partita di calcio tra ragazzini il portiere prende la palla con le mani fuori dalla propria area non può non si può fare una regola bisogna rispettarla lui fa finta di niente con la stessa espressione che ebbe morgan quando buco andò via dal palco di sanremo che succede lui fa finta di niente ma qualcuno in campo lo nota gli urla frichigno io ho imparato questa parola da piccolo perché quello che conta davvero da piccolo e giocare a pallone è certo qualsiasi pianura è sufficiente un campo da basket una pista di pattinaggio una piscina vuota l'importante è mettere le felpe per terra per avere i pali poi piazzare il pallone a metà tra le due porte la partita può cominciare senza stare lì a contare troppo 5 contro 5 di 7 contro 7 10 contro 11 perché perché uno manca sempre e certo perché i giocatori che iniziano la partita non sono quelli che la finiscono ma non è colpa del calciomercato è colpa delle mamme perché c'è sempre un bambino che deve tornare prima di cena se non lo fa ha di fronte a sé due opzioni una non tornare mai più sperando nell'ospitalità dei nonni due accettare l'inevitabile trattenendo il fiato ora l'importante era irrigidire la guancia al momento giusto così che il colpo del genitore provocasse solo un gran rumore tu non ti facevi niente il genitore in questione sembrava aver svolto un ruolo educativo importante scusa ma perché mi avevi detto di tornare alle alle 10 che ora mezzanotte ma io non me ne sono accorto anche per poi scusa ma perché tutta sta violenza sono entrato salutato come una persona educata poi io sono un bambino che la violenza non la sopporta quindi non vi permettete più perché anche se siete i miei genitori la prossima volta chiamo il telefono azzurro scusa che mi gira un po vado a dormire no non ho fame che vado c'ho i ceci sotto il letto li metto in ginocchio e magari cerco di provare dolore per quello che scusa e grazie per la vostra educazione siberiana mi farà bene poi per fortuna cresce ti organizzi lontano dalle mamme appuntamento allo stadio zaccheria nel piazzale antistante lo stadio un parcheggio dove di solito mettono le macchine una distesa di cemento sì lì non hanno molto senso le regole i fischietti gli arbitri farebbero ridere e i falli esistono solo quando sono falli seri indizio di fallo serio trauma fratture multiple sangue e nessun accenno di pianto perché se versi una lacrima non ti fanno giocare da nessuna parte sei costretto a ritirarti dai tuoi amici del catechismo e giocare continuamente a nomi cose città i portieri no non esistono portieri solo portieri volanti anche perché come diceva il maestro vola solo chi osa farlo ma nessuno sopravvive per confermarlo foggia è una città un po strana a proposito di portieri io mi ricordo che avevo un amico che purtroppo era nato con una deformazione gli mancavano i pollici e lo chiamavamo otto e lo incoraggiavamo però perché eravamo bambini per bene dai otto vieni vai a giocare in porta batti cinque otto e che questa arriva dopo perché foggia devi dare il tempo di contare comunque il portiere tutto lo immagini che vive nella propria area però come fai a capire qual è l'area sulla distesa di cemento tutto uguale tutto grigio tutto cemento ed è stato no quando non ci sono le felpe perché fa caldo come fai a capire anche solamente quali sono i pali e vabbè gli uomini riescono sempre a inventarsi qualcosa figuriamoci i bambini qualcuno di noi si immolava e diventava palo stava lì a guardarsi la partita da una prospettiva privilegiata partecipava attivamente al gioco non sudava cosa molto importante per le madri qualcuno di questi ha amato così tanto quel ruolo che ne ha fatto un mestiere quando vedete qualcuno affoggia che si che gira un po in un angolo di strada si guarda in maniera circospetta sta facendo il palo ma perché perché ricorda con l'infanzia da palo che gli ha permesso di avere un posto nella comunità che dice che sei bravo quando sei immobile certo perché qui rimanere immobili è considerato un talento non prendere la palla con le mani fuori dalla tua area non si fa te l'ho detto è una regola bisogna rispettarla è inutile che fai finta di niente perché tanto prima o poi qualcuno ti guarderà e ti urlerà frichigno foggia la mia città finisce dove iniziano i binari niente salite né discese come sul lungomare però senza mare una sterminata pianura gialla si dice che in pianura la vita sia più semplice in realtà si fatica di più la mia città è un posto in cui i sogni che fai le promesse che fai a un certo punto a una certa età sono tutte una scritta su un cartellone luminoso che recita ora ti faccio vedere io qui realizzare i sogni vuol dire vendicarsi vendicarsi di un posto che in fondo non ti ha chiesto niente in cambio questo c'è da mangiare e questo si mangia ingoia pensando ad altro se ti va sforza l'immaginazione che ti costa sforza l'immaginazione abbassa il prezzo arrenditi all'evidenza abbatti le aspettative anzi svendi che altrimenti non vendi niente certi consigli possono spezzarti le gambe puntare in basso no 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 frechigno stasera stasera la spariamo grossa e ora sforziamo l'immaginazione 1993 prima o poi qualcuno verrà a salvarci sì però che palle io non voglio salvarmi voglio vincere senza a negare senza galleggiare ma nuotando a braccia libere sentirsi liberi nel 1993 il nostro mare è verde e ora sforziamo l'immaginazione una sigaretta dopo l'altra una dopo l'altra avvolto in una nuvola di fumo una specie di tedoforo con al posto della fiaccola la sigaretta zeman nel 1993 e la fantasia al potere e da un po che la fantasia è al potere in città lui chiede ai suoi giocatori una cosa semplice fare gol se seguiranno i suoi schemi gol saranno tanti se non li seguiranno i gol saranno tanti ma al passivo semplice l'idea del gioco di zeman è la vera sconfitta è lo 0 a 0 tutta la città innamorata di lui sui giornali si comincia a parlare di zemanlandia di foggia dei miracoli piano 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 foggia dei miracoli non ti allargare che sei nato qua sei della provincia dove vai ah sì sai che c'è zeman quando non ha un attaccante prende un difensore e lo mette in attacco e sei semplice l'idea del gioco di zeman sì perché dobbiamo pareggiare pensiamo a vincere no di cui mettere gli scacchi gli intrecci le mosse ma come sarebbe bello se si aggredissimo direttamente la regina è erotica l'idea del gioco di zeman il pubblico sembra sbigottito gli sembra di essere preso a ceffoni in faccia e gli piace pure sì gli piace come i tossici a san patrignano no quello come fai a non drogarti di calcio tutta la città è innamorata di lui ma non è stato amore a prima vista no in effetti zeman la prima volta arriva a foggia nel 1986 ha quasi 40 anni è allenato soltanto in campi di provincia pressoché siciliani dove è più importante dare calci agli avversari che al pallone lì viene soprannominato il muto per via di quella sua loquacità così caratteristica parla poco da ordini è algebrico il suo modo di allenare è geometrico secondo me zeman zeman non è stato partorito no lui ha organizzato la squadra di supporto per per dare aiuto alla mamma durante il parto il suo comunque le cose non vanno bene tra zeman e foggia d'altronde le storie d'amore possono nascere male continuare peggio e finire a parolacce cosenza foggia 5 a 0 è troppo zeman viene esonerato va a parma poi a messina dove scopre totò schillaci quello delle notti magiche d'italia 90 ma c'è qualcosa di irrisolto tra foggia e zeman così succede nelle grandi storie d'amore c'è bisogno sempre di una seconda occasione e due anni dopo l'esonero zeman torna a foggia siamo in serie b non è il massimo però è già qualcosa il primo campionato non lo vinciamo ma il secondo sì e nella primavera del 91 c'è una nuova aria nella mia vita la serie a ora va detto che zeman non crea giocatori ma divinità lui prende giocatori normali e li trasforma in atleti completi centrocampisti magari coi piedi storti metronomi umani barone rambao di signori tutta gente con una velocità da videogioco lui trasforma in oro le gambe che tocca e quando sei pronto per fare il salto nella squadra che conta te ne vai nasci cresci e scappi è il destino della provincia dopo il primo anno di serie a la squadra viene quasi tutta smantellata il tridente delle meraviglie baiano rambao di signori viene venduto insieme a tanti altri la società incassa 57 miliardi dell'epoca e ne spende soltanto 18 per fare la squadra nuova ma zeman ama quel tipo di sfide e i ragazzi quelli nuovi hanno una responsabilità sulle spalle sentono il peso ma zeman deve averli evangelizzati bene perché il 13 dicembre del 1992 allo zaccheria il foggia batte per la prima volta nella sua storia la juventus per due a uno che goduria io c'ero me lo ricordo la vecchia signora lei e giovani slanciati noi il nuovo che sconfigge il vecchio la signora messa alla porta dai cafoni è un trionfo ci salviamo e inizia la nostra terza stagione di serie a che è un po come nelle grandi drammaturgie e la resa dei conti no anche quell'anno zeman inizia inizia il campionato con un pensiero un pensiero semplice popolare ce la possiamo fare dove giochiamo mister domenica prossima a milano contro l'inter a ce la possiamo fare possiamo vincere il risultato è casuale la prestazione no così diceva zeman non abbiamo quell'anno neanche lo sponsor sulla maglia come se nessuno volesse finanziare le imprese folli del muto è una grande storia questa è e parleremo ma non solo di questo vi sto annoiando facciamo una cosa facciamo uno stacco intimo tra di noi emozioniamoci come si fa a teatro al mio tre grazie dicevamo baiano rambaudi signori insomma noi nomi sono cambiati ora la squadra è fatta da caini sciacca mandelli roi bresciani e seno insomma tutti i nomi che al momento non si conoscono ma i tifosi impareranno ad apprezzare man mano che il campionato andrà avanti d'altronde chi non è ancora conosciuto ha un problema il suo nome viene storpiato e succede è il destino degli esordienti d'altronde anche zednek zeman voglio dire ti si incarta la lingua all'inizio era così quando lo dicevi zednek zeman e non solo lui su tutte le riviste musicali dell'epoca c'è un nome che si chiama carco bain no è famoso in irvana il gruppo è famoso anche quello perché il 21 settembre del 1993 esce in utero il problema è che carco bain non è stato sempre carco bain prima da sconosciuto era kirk covain card con la d tra la r e la t insomma molti hanno sbagliato il suo nome fonici poco pubblico giornalisti lui infatti per molto tempo si è firmato come card con la d tra la r e la t come a dire oh non vazzardate a dimenticarmi e la nevrosi del nome insomma è una cosa giovanile è giusta ci sta perché tu pensi di avere un nome forte che colpisca tipo leon poi in realtà ti chiami pino ma non è colpa tua e invece carco bain è un nome forte è un nome forte uno che mi piace dire mi piace sembra di parlare di un fratello maggiore o sai chi ti saluta un casino carco bain carco bain e non solo lui eh ricordare tutti i nomi dei gruppi è un casino madone jelisin jane soundgarden per gem oddio tutto il 1993 è un casino un casino pieno di speranza per esempio il medio oriente una polveriera io indosso la keffia sia ben chiaro anche se se mi sta male mi sta davvero male ora che ricordo anche il kippa il copricapo degli ebrei sono un po confuso in quanto a idee politiche ad abbigliamento sembro un cretino col mal di gola comunque il medio oriente è una polveriera però c'è una speranza bill clinton il presidente degli stati uniti quello famoso per una fellazio sta preparando il giardino di casa sua la casa bianca dove ci sarà un incontro speciale jasser arafat e izzakrabin palestina ed israele si incontreranno e si stringeranno la mano sorridenti bill clinton metterà le sue mani sulle loro come un arbitro con due capitani ecco hanno firmato gli accordi di oslo la pace sembra vicina anzi irreversibile come dice arafat certo è tutto molto lontano da noi però da quando c'è zeman abbiamo la sensazione di poter entrare nella storia e infatti succede perché dall'altra parte del mondo continua la guerra in bosnia perché il presidente tushman si rifiuta di concedere un territorio e la guerra tra croati e musulmani continua e passa anche da noi la storia sì perché il 5 settembre del 1993 a foggia si gioca foggia inter per la cronaca finisce 1 a 1 anche l'inter non riesce a rovinarci il rientro dalle vacanze succede questo in curva campeggia uno striscione dice bosnia libera grazie foggia partito radicale erano stati loro i radicali l'hanno messo loro perché una settimana prima a roma con la lazio volevamo scendere in campo con una scritta sulla maglia bosnia libera e certo non avevamo neanche lo sponsor sulla maglia quale migliore occasione per esprimere un'idea un'opinione no ce lo impedirono ma tarrese il presidente della lega calcio ce lo impedì perché zeman e il foggia erano diventati anche credo religione addirittura qualche giornalista chiamava i calciatori discepoli irriducibili discepoli e come sempre tra i discepoli c'è un giuda shalimov il russo e un giorno si toglie la pettorina e dice mister io non ho bisogno di allenarmi insieme agli altri ah dice il mister e lo manda in tribuna altri tempi inizia il nuovo anno io sento che l'anno in cui non ho più paura sì perché zeman ha ragione non è necessario avere i piedi sopraffini per diventare un campione aumenta le tue occasioni non ti fermare alla prima sconfitta con zeman se arrivi puntuale agli allenamenti se rispetti i compagni e il mister ce la puoi fare a giocare contro campioni come gullit zola baggio è uno giusto un rivoluzionario ne avevamo bisogno secondo me i giocatori di zeman hanno lo stesso approccio nel momento in cui affrontano dei campioni che aveva un mio compagno di scuola quando affrontava il professore di biologia che somigliava leggermente a un gerarca nazista tu diceva non pensare al professore di biologia dietro la cattedra lì che incute terrore no pensa al professore di biologia seduto sulla tazza del cesso che legge le etichette del bagno schiuma lo vedi che tutto si ridimensiona e allora i calciatori facevano lo stesso a pensare a gullit come uno che tira delle batoste da fondo campo te la mette sotto la traversa senza che tu possa capire nulla tu pensa a gullito quando lo affronti seduto sulla tazza del cesso che legge le etichette del bagno schiuma che sta per passare a baresi il padre dei suoi figli e lo vedi non fa più così paura ma quale timore reverenziale ma per carità ma figurati esistiamo anche noi in tv certo da quando c'è zeman esiste frengo e stop i foggiani sono permalosi si sa a sfotterli c'è un comico di talento tale antonio albanese che si inventa un personaggio strano bizzarro a metà tra dj e giornalista sempre strafatto parla uno strano dialetto un po barese un po pugliese di foggiano c'è poco giusto qualche qualche suono gutturale che ci fa capire che non abbiamo sbagliato grotta lui è più foggiano dei foggiani fuma l'impossibile come il suo maestro simpatia zeman e ha ragione perché con zeman sembra di vedere le partite sotto effetto di droga su italia 1 niente di meno ora ora siamo famosi in tutta italia foggia è conosciuta anche al nord ma sì ma che pensano quelli no dico ci ammirano fanno i superiori ma che cosa si sono messi in testa che quelli tutti da qua vengono nel frattempo semallandia stava diventando come uno uno di quei cugini un po picchiatelli che sta per prendere una sonora lezione sì un ragazzino che non va in escandescenza per forza ma ma si impunta quando gli dai contro ecco semallandia era un ragazzino che si impuntava un ragazzino che si era messo di traverso o forse eravamo noi che guardavamo tutto distorto attraverso la lente di frango e stop magari magari non pensavano mai a noi non ci consideravano ma come stiamo scrivendo la storia e voi ci lasciate le didascalie comunque in quel periodo nessuno me compreso vuole rinunciare ad essere considerato talentuoso è certo è certo perché il genio può nascere ovunque non è importante la città è il concetto di lotteria prima o poi qualcuno vince foggia va bene anche foggia come aberdeen aberdeen stato di washington freddo porco 37 fra segherie posti dove si lavorano il legno e serial killer che crescono in cattività lì in un posto dimenticato da dio un po simile a quello in cui sono nato nasce e cresce carcobain carcobain quando parla della propria città è abbastanza serafico aberdeen dice è un posto di maniaci stronzi che che bevono e segano il legno non per forza in quest'ordine è un bambino iperattivo carcobain per calmarlo gli danno del succo di frutta e del roipnol ma lui ci crede lui ci crede va in giro con questa chitarra a tracolla è cambiato soprattutto da quando ha visto un concerto dei melvins in un parcheggio fuori città vuole essere come i melvins anzi vuole essere meglio di loro come me quando guarda un porno no si chiama grunge e le chitarre sono così distorte che a stento si sente la melodia loro fanno casino e provano disagio io voglio far parte di quel disagio si vestono così male ma così male che io per cercare i vestiti simili devo andare al mercato del venerdì a foggia dove tra l'altro ogni tanto incontro zeman perché era lì nel piazzale antistante lo stadio io voglio essere come loro voglio provare lo stesso disagio quello dei nirvana per esempio che hanno cambiato insieme a tutto il movimento grunge la storia del rock soprattutto dall'uscita di nevermind il secondo album del gruppo ora già dalla copertina nevermind racconta qualcosa che prima non c'era in copertina c'è un bambino nudo che nuota in una piscina e cerca di raggiungere un dollaro appeso ad un amo capite la provocazione car cobain dedica nevermind a tutti i genitori scoraggianti del mondo ringraziandoli per aver costretto i propri figli ad uscire allo scoperto ecco l'idea uscire allo scoperto poco prima dell'uscita del disco car cobain capisce che la sua vita sta per cambiare per sempre e fa una telefonata al padre don cobain la telefonata è laconica un classico tra i cobain carte gli racconta dei suoi viaggi in europa il padre gli dice semplicemente ma ce li hai i soldi sì papà risponde carte ho firmato con una major sì sì ho capito ma i soldi ce li hai papà ho firmato per una major per una multinazionale e tu invece ah il mio lavoro di investigatore mi piace dice il padre continuano a parlare del più e del meno e poi si salutano senza che nessuno abbia fatto riferimento alle proprie ferite e ai propri dolori nessuno è uscito allo scoperto zero a zero io ho conosciuto in irvana a casa di gialluca capacchione un mio amico un pomeriggio autunnale qualsiasi in cui tele capodistria si trasformava in mtv e per la prima volta abbiamo visto il video di smell lighting spirits una roba incredibile car cobain questo tizio biondo che urlava con i pollici dentro il cardigan bucato con gli jeans strappati le converse estate inverno che urlava e we are entertainers si buttava sulla batteria di take roll un'energia incredibile mai vista prima una una cosa così da dove vengono da dove vengono da siattolo dobbiamo andare anche noi a siattolo perché anche noi suoniamo non possiamo andare perché perché i biglietti costano troppo non c'è la ryanair l'unica compagnia aerea che la mia generazione può permettersi e che schifa pure comunque nirvana sono insieme a car cobain come il quarto stato in cammino ecco però a guidare il gruppo non c'è il tizio col barbuto col panciotto no c'è il leader marcio della mia generazione car cobain siamo tutti atei siamo tutti comunisti dio è morto dio è risorto dio fa il vago amen la messa sta per cominciare nel 93 la musica in italia è tutta una messa in cui il prete sembra sempre troppo entusiasta le messe rock sono l'unico momento in cui vorrei chiamare la polizia per per far spegnere la musica a sanremo e l'anno dei non vedenti perché tra i big trionfale andro baldi che con ottimismo ci canta passerà e ci ricorda che torneremo tutti in banca prima o poi magari tra i giovani invece vince un talento un tenore si andrea bocelli che canta una canzone memorabile si chiama il mare calmo della sera il mare calmo della sera ma come posso stare calmo io a 16 anni con i pergemmi sound garden la voglia di innamorarmi tutti i giorni come cazzo faccia stare calmo tu mi parli del mare calmo della sera ma morite male morite male così se vi reincarnateci pensate due volte volevate la mia musica celestiale no avete perso il coro riempie il cielo per dire al mondo intero che ci siamo noi con la z è proprio scritto così siamo i diavoli del sud però l'inferno non c'è più solo amore senza età che mai si spegnerà compatti andiamo in campo e fuori dobbiamo essere i migliori ma con passione e intelligenza e senza mai violenza mai hai forza forza foggia un coro riempie il cielo per dire al mondo intero che ci siamo noi i più forti ancora rossomini in campo e nella vita giochiamo la partita si per vincere per crescere per nascere ma ricordo più di più vai 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 la 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 Foggia Mancini, Nicoli, Sciacca, Bucaro, Bianchini, Bresciani, Di Biagio, Colivano, Stropa, Roy Juventus Peruzzi, Porrini, Torricelli, Marocchi, Julio Cesar, Koehler, Di Livio, Conte, Baggio, Ravanelli, Müller il 12 settembre del 1993 la Juventus torna a Foggia ui siete tornati a prendervi quello che avete lasciato l'anno scorso prego prego da questa parte la Juventus degli Agnelli dà sempre soldi macchine potenti tipo la Panda e potere con in mezzo molta droga dalla cocaina di Gianni Agnelli all'eroina del figlio Edoardo morto suicida nel 2000 insomma gli incontri di casa Agnelli sembravano un po' gli incontri al CERT comunque Alessandro del Piero il fuoriclasse bianconero che in realtà giocherà solo una parte piccola della partita da solo vale quasi quanto la metà della nostra squadra a Roberto Baggio è pagato 16 miliardi di lire insomma Davide contro Golia ma ce la possiamo fare il risultato è casuale la prestazione no la partita è subito elettrizzante come quando il tappo vola via dalla bottiglia di champagne passano due minuti Stroppa è velocissimo Colivano riesce a servire Roy che batte Peruzzi sul lato lontano GOOOOOOOL GOOOOOOOL nooo no perché Guardalini sta sventolando la bandierina del 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 fuorigioco il frichigno i Guardalini erano Aleandro Baldi e Andrea Bocelli Zeman fuma l'ennesima sigaretta i nostri ragazzi dice sono sani e corrono come dei pazzi lo dice mentre fuma per una prima mezz'ora il ritmo è troppo alto per i bianconeri e Zeman che fa? nessuna pietà pressing sempre più alto Roy e Bresciani maltrattano i terzini della Juve ma Colivano non è pericoloso Peruzzi devia un missile di sciacca e una capocciata di dibiaggio mentre dall'altra parte Möller, Baggio e Ravanelli impensieriscono la difesa foggiana il primo tempo finisce sullo 0 a 0 e tutto lo zaccheria tira una boccata d'aria Foggia fumano tutti tutti pure i bambini di 4 anni ma non per vizio per imitazione del maestro e che vogliamo fare il secondo tempo però è diverso perché la Juve è un po' più compatta entra in campo un po' più decisa fino al quindicesimo quando Möller riesce a smarcare Baggio da solo davanti l'aria davanti a Mancini il nostro portiere cerca di superarlo ma Mancini riesce a riprendere il pallone perché Baggio perde un secondo un errore grave per Baggio tutto lo zaccheria come un unico corpo espira Zeman ha perso l'accendino ma fa finta di niente chiede ai suoi pressing sempre più alto sempre più alto Stroppa e Roi sono velocissimi arriva in area un pallone un batti e ribatti all'interno dell'area bianconera finché Roi non la mette dentro e stavolta non è fuori gioco è GOOOOOOOL GOOOOOOOL esultano tutti tutto lo stadio impazzisce tutti gridano contenti felici tranne uno tranne uno che era vicino a me io me lo ricordo mi ricordo perché ero lì allo stadio e questo era un tizio un po' alto era a petto nudo perché era a settembre c'era un liquido verde che usciva dal suo corpo non so e 200 tonnellate stava lì zitto muto quando quando tutto l'entusiasmo si è assupito lui lui nel silenzio in quell'attimo di silenzio ha urlato la maveggia sta partito o no? no io vorrei dire però io sono una persona per bene sono stato educato in una certa maniera quindi sono disposto al dialogo quindi sono andato da lui e gli ho detto caro signore no lei sta dicendo qualcosa che non mi torna perché in realtà noi abbiamo appena segnato quindi in realtà la stiamo vincendo la partita mi sembra un po' eccessivo criticare così inutilmente una questione di ma non fregni no ma veggio sta partita no ha ragione io infatti io infatti volevo mi metto da questa parte papà vieni perché c'era mio padre mettiti a fianco e magari continuiamo a vedere la partita la Juve si incazza ci mette cinque minuti a reagire un batti e ribatti all'interno dell'aria Baggio Muller e Ravanelli la mette dentro Ravanelli Ravanelli quello con i capelli bianchi quello che sembrava uno spot alla terza età quando c'era ancora l'idea dello Stato che ti pagava la pensione Ravanelli uno a uno ora la Juve si è incazzata davvero perché si vuole vendicare solo che il caldo le taglia le gambe certo noi siamo giovani loro sono vecchi d'altronde se non ce la fai non ce la fai finisce uno a uno abbiamo già incontrato Inter e Juve in quattro partite siamo imbattuti e settembre inizia la scuola e senza mai violenza mai ai affoggia la violenza è di casa non è vista come un estraneo in famiglia prendiamo per esempio Giosu e Rizzi detto il papa o zio Gio uno zio con tanti nipoti uno che è meglio tenerselo amico perché in fondo è un pezzo di pane un guascone capo carismatico della mafia foggiana degli anni 80 da anziano zio Gio si dedicherà alla pittura anche alla letteratura scriverà un libro giudizio e pregiudizio sembra una fiction rai ma a tenerlo Giosu e Rizzi da giovane se mica lo tenevi è accusato della strage del Bacardi nel 1986 che non è un incontro tra amici che finisce in un coma etilico no è qualcosa di più è l'inizio di una storia un po' più grande che ci riguarda tutti provo a raccontarlo da una parte il clan di Giuseppe Laviano erede di Giuseppe Ciliberti detto Pinuccio Ubbion dall'altra il clan degli Agnelli di Gerardo Agnelli braccio destro di Michele Carella alias Lellino Recchiolong detenuto a New York per droga capite bene Pinuccio Ubbion e Lellino Recchiolong lo vedete che i nomi sono importanti Giosu e Rizzi sta con gli Agnelli che sono di Foggia i Laviano non sono di Foggia sono forestieri qua non si scherza comunque la partita inizia subito con gli Agnelli nella metà campo dei Laviano corrono sulle fasce passaggi ficcanti hanno un unico obiettivo in testa quello è pom 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 il 31 gennaio cercano di uccidere Giuseppe Laviano ma l'attentato fallisce vabbè palo i Laviano reagiscono e reagiscono bene eh il 28 febbraio prendono un piccolo boss legato agli Agnelli Gaetano moffa e pom 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 lo uccidono ma questo non è un bambino che non torna a casa perché ha paura della mamma no questo viene proprio ammazzato Laviano 1 Agnelli 0 ma gli Agnelli sono giocatori coriacei scendono in campo nel secondo tempo carichi a bestia quelli un obiettivo hanno Pino Laviano ha togornuto c'è chi ha spaccato e il primo marzo cercano di ucciderlo di nuovo pom 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 ma anche questa volta l'attentato fallisce due fallimenti su due che cazzo vabbè allora cambiamo strategia dicono gli Agnelli basta con i tentati omicidi passiamo ai rapimenti prendono uno un tale Savino Tanzi legato ai Laviano lo torturano per un po' ma incredibilmente questo riesce a scappare anche con l'aiuto dei Carabinieri tre fallimenti su tre che partita di merda allora gli Agnelli gettano il cuore oltre l'ostacolo è il primo maggio del 1986 in un club privato nel centro della città in piazza Mercato si chiama il Bacardi ci sono alcune persone che sono lì a cena alle 3.30 di notte si sa al sud ci andiamo tardi irrompono alcune persone come in Scarfese cominciano a sventagliare pallottole su pallottole pom 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 cadono quattro persone su cinque quattro pregiudicati legati al clan di Laviano più Antonella che è la fidanzata di uno di loro Gennaro Manco è l'unico che si salva Antonella non c'entrava niente è successo che qualcuno ha avuto una soffiata sono arrivati e hanno ucciso quattro persone pom 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 gol 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 quattro pappine e tutti a casa o meglio in tribunale ad essere accusato della strage è il nostro Giosuio Rizzi anche se pare che il vero regista di tutta l'azione che da sola vale il biglietto pare essere Rocco Moretti detto Upurk che poi avrà un acerrimo nemico in Roberto Sinesi soprannominato Lo Zio Lo Zio e il Porco insieme fanno una bestemma Comunque Rocco Moretti che poi verrà scagionato da questa strage in realtà non è stato così fortunato no perché Upurk no voglio dire lo fai con un soprannome del genere a vincere un concorso ad essere assunto no invece Giosuio Rizzi il Papa eh ti si aprono tutte le porte facendo bene i conti Giosuio Rizzi passerà 40 anni di vita in prigione e 20 da uomo libero morirà il 10 gennaio 2012 in un agguato vicino al suo cadavere troveranno una bottiglia di champagne un segno di rispetto o una provocazione magari entrambe le cose morirà così Zio Gio il Papa la simpatica canaglia che ha messo a ferro e fuoco quartieri interi come Ceppe e Candelaro reclutando centinaia di giovani che è stato coinvolto anche nell'omicidio Panunzio che pare non sia stato improvvisato ma organizzato così almeno dice la corte d'assise d'appello di Bari che 5 anni dopo parlerà per la prima volta della mafia foggiana come una mafia organizzata strutturata è armata fino ai denti ooooh cazzo da storia organizzato come lo so voglio no hanno sbagliato quale organizzato quale non esagerare pensa pensa al 1993 e fatti i cazzi tuoi noi nel 1993 marciamo contro tutte le mafie sì a quell'età si marcia per partito preso la motivazione viene dopo facciamo per difendere i pini da leppo del gargano per per contrastare l'estinzione del panda d'altronde come fai andare a scuola sederti nel banco e pensare che dall'altra parte del mondo c'è un panda che sta morendo sciopero scioperiamo anche per cose molto più importanti come i termosifoni che non funzionano la gita di quinto che non ci viene concessa dal preside per la pace per la guerra per capire per capire sì perché è passato un anno dall'omicidio di Giovanni Panunzio l'imprenditore che ha denunciato i propri estorsori come come? è che non lo sai? non lo sai che a Foggia pagano tutti gli inquirenti dicono che per ogni estorsione denunciata ce ne sono dieci che non vengono alla luce ora Giovanni Panunzio è una persona per bene gli chiedono due miliardi di lire dall'epoca poi scesi a 500 milioni perché quelli sono generosi si mediano cercano di capire anche chi hanno di fronte basta basta che non usi parole difficili perché al primo congiuntivo dagli non hanno più se non tira e molla poi magari Giovanni Panunzio come tutti noi avrà avuto paura avrà anche pensato per un attimo di pagare poi si rende conto che è sbagliato è ingiusto è una brava persona allora decide di non pagare denuncia i propri estorsori sul finire del 1992 viene ucciso la sua Y10 crivellata di colpi da lì passa un tizio si chiama Mario Nero alleva Canicorso guarda tutta la scena e decide di testimoniare soprattutto dopo che ha sentito il figlio di Panunzio chiedere a gran voce di parlare Mario Nero pagherà questa scelta per tutta la sua vita scapperà ripudiato anche dalla famiglia e interpretato da Raul Bova in una fiction su Canale 5 che parla della sua vita ora vedere il tuo dolore interpretato da Raul Bova aggiunge al danno la sfida noi nel 1993 marciamo senza riuscire a mettere insieme i puntini boh saranno quelli delle 23 così li chiama qualche giornalista le scene sono sempre le stesse uno scoppio la bomba poi vigili del fuoco carabinieri polizia nessuno si è fatto niente per fortuna ma dateci tempo perché qua vedrete i fuochi d'artificio Hollywood costruttori e imprenditori sono sotto scacco bomba alla discoteca metropoli bomba all'autosalone sesta marcia bomba ai supermercati primavera incendiate le auto dei proprietari delle imprese di pompe funebri a cui viene chiesto un pizzo di 250 mila lire per ogni funerale 250 mila lire 125 euro direte voi no no 250 euro d'altronde era bello quando il pizzo si poteva pagare quando era popolare 250 mila lire noi facciamo fatica ad unire i puntini non lo so bombe nei supermercati bombe nei depositi di pesce bombe addirittura in una cartolibreria una strage di diari innocenti l'ora del racket è diventata fatidica le bombe esplodono con una cadenza impressionante quelli delle 23 ormai è difficile stare in giro a foggia dopo un certo orario c'è il coprifuoco ma è impossibile alla mia età non sfidarlo quelli delle 23 ti viene in mente subito una trasmissione famosa all'epoca quelli della notte di Renzo Arbore Renzo Arbore è uno che che quando gli ricordi che è di foggia lui ti canta subito un classico napoletano quelli delle 23 la criminalità organizzata non viene pronunciata ad alta voce nel 93 non so chi sono sono un po' sono un po' tutto sono mezzo atleta mezzo musicista mezzo Bastian Contrari però è cambiato tutto mi sono innamorato c'è Carcobain poi basta con la nostalgia io non la sopporto la nostalgia la odio con tutto me stesso per me la nostalgia è come un album da colorare già colorato ma come da giovane esagitato ultra e da adulto malinconico pompiere è proprio così che è stato l'ordine della tua vita no dico se ci fosse un ordine nel diritto di vivere le stagioni dovresti aver vissuto un'infanzia felice è fatto? sì un'adolescenza bella e turbolenta è fatto beh più turbolenta che bella un inizio di maturità promettente fatto? beh diciamo una prosecuzione di maturità in cui si calmano gli ardori e si riducono le sofferenze fatto? no no sono tornato indietro sono tornato a Foggia Foggia stazione di Foggia Foggia è la città col municipio a forma di M come Mussolini che l'ha costruito no no proprio come municipio così gli alleati quando sono arrivati nella seconda guerra mondiale hanno guardato il target e hanno saputo dove bombardare beh è normale l'idea funziona va usata se dovessimo ricostruire lo stadio dovremmo farlo a forma di S il teatro giordano se non fosse stato costruito a forma di T probabilmente non sarebbe stato chiuso sette anni ah i negozi che pagano il pizzo mettiamoci una bella P fuori così almeno gli estorsori non vanno girando come dei pazzi tra i vicoli del centro storico oppure fai come la lista no dico la lista forse qualcuno non lo sa a Foggia c'è una lista ne parla per primo il pentito Antonio Catalano è una lista di nomi in primis di quelli che pagano è una sorta di lista della spesa per cui le batterie sono entrate in conflitto molte volte sanguinose faide tra Trisciuoglio Principe Sinesi Francavilla è una sorta di sacro graal ma non è solo una lista di nomi no 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 è anche una mappa una mappa in cui ci sono le credenze le appartenenze le religioni ci sono tutti i nomi di quelli che pagano commercianti imprenditori gente comune perché la società non fa differenza no ad inutili razzismi tutti sullo stesso piano tutti sullo stesso piano e questa è la vera forza della lista mettere tutti sullo stesso piano vittime e aggressori killer e familiari di vittime ma non è solo quello è anche un documento welfare una sorta di IMS sì dove ci sono i nomi dei capitani coraggiosi di quelli che in carcere non si pentono dei familiari degli affiliati a loro è destinata la spartenza soldi stipendi incentivi una sorta di stato sociale che manco la svezia poi basta con i luoghi comuni che la mafia foggiana non si prende cura dei propri cittadini non è come lo stato no la mafia foggiana ha a cuore i propri cittadini anzi basta con i luoghi comuni in generale in amore vince chi fugge chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova chi si dispiace dalla carne dolata si usa la magninicone il nuoto è uno sport completo criscio fighe criscio purc questa mi è sempre piaciuta no perché affoggia poi la questione dei nomi è importante perché tu fino a una certa età maschi e femmine non sai mai chi sei perché tutti ti chiamano ma tra tutti i luoghi comuni ce n'è uno che ci caratterizza da sempre fuggi da foggia non per foggia ma per i foggiani mamma mia sta lettera scarlatta ma è possibile possibile avere questa spada di Damocle da sempre da quando sei nato ho capito c'è un'assonanza tra fuggi e foggia ma voglio dire non sarebbe molto meglio fuggi da fiuggi non per fiuggi ma per i fiuggini senti come suona meglio facciamo un po' di turnover prendetevela voi sta roba ogni tanto poi voglio dire è una città famosa per l'acqua invece che per il vino che gli vuoi dire mi dispiace e comunque io io la mia città me la ricordo sempre per un elemento un elemento di abbigliamento la maglia nera eh sì perché ogni anno sul sole 24 ore c'è la classifica delle città più vivibili e noi siamo sempre ultimi sempre ultimi o il brocco che chiude la fila non ci abbiamo mai nessuno dietro siamo sempre ultimi e quindi abituati a essere sempre ultimi siamo primi in qualcosa no? tutti gli anni il sole 24 ore sta lì con gentilezza a dirti ciccio mi dispiace è che vivi in una città di merda io ho immaginato tutta la mia città con la maglia nera la statua di Umberto Giordano con la maglia nera sapete che c'è? mettiamocela sta maglia nera visto che c'è come mi sta? secondo me mi sfina la maglia nera tutti gli anni è così però nel 93-94 noi lottiamo per qualcosa di importante non siamo ultimi e quando succede? io la maglia nera non me la tolgo ci disegno sopra delle strisce rosse e me ne vado in giro da nord a sud ottobre 1993 foggia Roma 0 a 0 inizia il tour di inutero da Phoenix il gruppo è allo sbango nessuno crede più in Carco Bain novembre 1993 Piacenza foggia 5 a 4 tra mille difficoltà e Nirvana registrano Unplugged un album che cambierà la storia anno nuovo vita nuova gennaio 1994 Foggia Lazio 4 a 1 Carco Bain insieme a Cartney Love e a sua figlia sono a Siato febbraio 1994 Milan foggia 2 a 1 in Irvana sono a Roma registrano una trasmissione televisiva su Rai 3 Avanzi si chiama marzo 1994 Sampdoria foggia 6 a 0 Carco Bain è a Roma all'hotel Excelsior tenta il suicidio si svuota due blister di Roipnall dieci volte più forte del Valium muore per un'ora Cartney Love se ne accorge e riesce a svegliarlo giusto il tempo di cambiare su Dario agli inizi di aprile Carco Bain è a Siato si nasconde non si fa vedere neanche da quelli che convivono con lui nella villa dorme vestito sotto il cuscino ha scritto un biglietto più o meno recita così non so dove sto andando ma vi prego non seguitemi lo sapete che vi amo ti amo figlia mia e poi un'intera pagina di mi dispiace la notte tra il 4 e il 5 aprile Carco Bain è nella sua stanza la televisione è accesa senza sonoro su MTV mette su un disco Automatic for the People dei Rem e la voce di Michael Stipe sembra essere una leggera ninna nanna poi prende un tacquino e una matita e scrive la seconda parte del biglietto questa volta dedicata a Bodda il suo amico immaginario di quando era piccolo poi prende due asciugamani una custodia beige e una scatola di sigari Tom Moore con dentro 100 dollari di Black Tar eroina messicana tanta eroina scende i 19 scalini dei gradoni attento per cercare di non svegliare Cali il tizio che lo sorveglia in assenza di moglie e figlia attraversa il patio entra in cucina apre il frigorifero da 10.000 dollari e prende una bottiglia di birra analcolica Bark anche in questi casi la vita sa come prenderti per il culo entra nella serra dice il parquet facile da pulire Carcobain non vuole liberarsi dai bisogni Carcobain vuole liberarsi dal dolore non provo più piacere ad ascoltare e creare musica oltre che a leggere e a scrivere ormai da molti anni mi sento colpevole in maniera indescrivibile il fatto è che non posso prendervi in giro non è giusto per voi e per me il peggior crimine che mi viene in mente sarebbe ingannare la gente fingendo di divertirmi al cento per cento certe volte mi sembra di timbrare il cartellino prima di entrare in scena ho tentato tutto quello che è il mio potere per farmelo piacere e ci provo ancora ma non basta apprezzo il fatto di aver appassionato e divertito un sacco di gente devo essere uno di quei narcisisti che si godono soltanto le cose passate sono troppo sensibile triste piccolo sensibile incompreso Gesù ma perché non te la godi e basta? non lo so non sopporto l'idea che mia figlia diventi il miserabile death rocker autodistruttivo che sono diventato io grazie a tutti voi dal fondo del mio stomaco infiammato e nauseato per le vostre lettere per l'interesse negli anni passati non provo più entusiasmo e perciò ricordate è meglio bruciare che spegnersi lentamente pace amore compassione Kurt Cobain kart è nella serra percepisce la sua resa come fa a rendersi uno così? si inietta sopra il gomito 50 dollari di eroina l'angelo cazzaro tutta una vita chitarra tracolla ora a fretta ha paura che la droga possa fargli perdere consistenza punta il suo fucile Remington M11 contro il suo palato questo farà fracasso pensò lo stesso fracasso che una monetina quando i traslocatori porteranno via tutto farà dopo essere caduta sul pavimento della casa vuota anche uno spicciolo del diavolo può far casino in una casa sgombra hanno un pentagramma tutto loro i pavimenti delle case vuote era giovane e aveva ragione i giovani hanno sempre ragione anche quando hanno torto anche quando hanno paura anche quando perdono pezzi di cervello ovunque troveranno il corpo di Carcobain tre giorni dopo è viva morto il re viva il re perché non meritiamo anche noi non meritiamo anche noi un eroe che sotto il nostro sguardo si è avvicinato troppo al sole non meritiamo anche noi di vedere ascesa e caduta di una persona normale che prima di morire ha realizzato i sogni di qualsiasi adolescente che va dritto dritto nel club dei 27 anni jenis joplin jimmy hendrix jim morrison scusate ma un mito ci fa comodo ci serve il cuore nero inizia il mio ultimo mese di campionato ora ho anche un mito morto suicida 27 anni ma che hai o niente ma niente di che ti vedo che non stai bene ma chi hai ma niente ma è morto carco bene chi niente lascia perdere un mal di testa non vado a scuola già pure oggi cerco di dividere il dolore con i miei compagni in classe ma è difficile poi è primavera e nessuno vuole stare dentro i nervi sono sempre più tesi e nessuno riesce a tenerli a bada domenica primo maggio 1994 ultima domenica di campionato l'ultimo campionato con i due punti per chi vince da quello successivo ce ne saranno tre un calcio al difensivismo di alcune squadre a foggia si gioca foggia napoli il foggia se vince contro il napoli supera il napoli va in coppa uefa ma coppa uefa l'erasmus l'erasmus del calcio ti rendi conto andremo a vedere squadre di cui non conosciamo neanche il nome non lo sappiamo neanche pronunciare sarà una grande giornata anche se nessuno la racconterà perché perché il giorno dopo i giornali non usciranno e vabbè ogni volta la racconteremo noi va bene vuol dire che che le grandi storie vanno raccontate così da dietro le quinte sarà una grande giornata domenica primo maggio è una giornata di merda airton senna il campione brasiliano di formula 1 si schianta 300 all'ora durante il gran premio di san marino è ancora in coma quando io vado allo stadio ma ora c'è il foggia foggia napoli il napoli di lippi la partita è tesa mandelli entra in area nel napoli taglia la tela il portiere lo mette giù rigore no figuriamoci un'altra azione sospetta stroppa in area di rigore del napoli pari il difensore prende palla e piede rigore figuriamoci manco a parlarne la partita è molto tesa fino al sessantesimo quando un pallone innocuo dalla metà campo del napoli scivola via in quella del foggia non c'è nessuno solo il nostro portiere mauro bacchine che quel giorno sostituisce il nostro primo portiere franco mancini il nostro difensore di bari l'accompagna come a scortarla mentre il centravanti del napoli di canio comincia a correre anche se molto lontano è una cosa che gli attaccanti fanno per cercare di spaventare il difensore e portiere mauro prendi la palla mauro bacchine prendi la palla non è frichigno la puoi aspettare dentro l'area la prendi con le mani non è frichigno mauro prendi la palla prendi la palla mauro prendi la palla la palla sbatte contro la tibia bacchini si incarta di canio ha la porta sgombra non può credere ai suoi occhi la mette in porta gol foggia zero napoli uno vabbè vorrei dire che la coppa uefa ce la strapperemo a morsi il foggia attacca 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 due azioni sospette in area del foggia i napoletani chiedono il rigore non vazzardate neanche il foggia attacca 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 la partita finisce foggia zero napoli uno renzo arbore che cosa canterebbe un mese dopo la morte di carcobain finisce la giostra per adulti e bambini finisce zemanlandia negli spogliatoi c'è aria da dio zeman ha quasi le lacrime agli occhi una cosa strana per uno come lui dice che ci aveva creduto fino in fondo e che gli dispiace anche se è contento di tutto quello che ha fatto lì a foggia andrà via a urlare il suo frichigno altrove dirà che le farmacie sono entrate negli spogliatoi e si farà il nemico più acerrimo la juventus e tutti saranno con la juventus perché anche nel calcio ce l'omertà è frichigno questo spettacolo frichigno di frichigno perché non si può parlare di foggia senza parlare della società ecco ecco i nomi i nomi sono importanti noi nel 93 non riuscivamo a mettere insieme i puntini mentre qualcuno si appropriava addirittura del copyright di una parola perché ovunque la parola società ha un'accezione positiva qui no qui vuol dire criminalità organizzata e non la si sente dire in giro qualcuno ci ha provato a urlare il proprio frichigno come l'ex questore silvis il procuratore vaccaro una parte della società civile frichigno ai giornali frichigno a tutti frichigno a noi che marciavamo nel 93 senza riuscire ad unire i puntini senza capire senza capire qual era qual era l'odore ecco abbiamo ignorato il cattivo odore non abbiamo saputo dare un nome a quel cattivo odore nel 93 i nomi non li so forse o meglio sicuramente qualcuno lo conosco magari ci ho giocato a pallone insieme sicuramente ci siamo visti allo stadio vabbè ma tenete la vera sta città io me ne vado basta frichigno a me che me ne vado sì tenetevi sta città anzi bel nome vi siete scelti la società fico spietato funziona bravi frichigno a chi come noi è dovuto andare via rimanendo nel vago oppure oppure sono loro quelli come me i miei coetanei quelli con cui giocavo a pallone i futuri spacca ossa sono loro i boss che governano questa città hanno la mia età siamo cresciuti insieme all'ombra di zemanlandia gomito a gomito risse partite scioperi oppure non sono riuscito a capire il veleno nella mia generazione la foggia quella è ci siamo incontrati sicuramente non è in milano non è in roma ci siamo visti da qualche parte sarebbe stato bello se quelle domeniche ci avessero salvato tutti frichigno alla società frichigno ad ogni tregua perché la tregua nella società foggiana salta come la testa di carcobain è guerra continua tra le famiglie tra le batterie trisciuoglio sinesi francavilla moretti pellegrino lanza questi questi sono i nomi che comandano la città la società foggiana famosa in tutta italia anche oltre business del fotovoltaico appalti estorsioni armi prostituzione qualsiasi cosa sono loro sono loro i nomi che comandano questa città si stanno facendo avanti le nuove leve quelli che giocavano con me ora siamo due tifoserie nemiche giurate una squadra la loro nata dopo di me perché la società ha una data di nascita il 5 gennaio del 1979 all'hotel florio un hotel tra foggia e san severo ora in disuso all'epoca c'era anche un campo di calcio si allenava il foggia di zeman un posto in cui si può fare una conferenza o seppellire un cadavere lì si incontrano alcuni capi locali tra cui giosù e rizzi e il professore o professore raffaele cutolo capo della nuova camorra organizzata vuole fare una sorta di succursale qui in capitanata all'inizio i capi locali di foggia ci stanno però poi c'è qualcosa che non va e giosù e rizzi pensa pensa a un'idea imprenditoriale foggia ai foggiani quindi sono furstiti diventa quasi uno slogan elettorale la mafia foggiana tra le più brutali d'italia come quando Rocco Moretti uccide Giuseppe Laviano racconta un pentito che che in un casolare fuori città ci sono alcuni boss locali tra cui Vito Lanza, Vincenzo Pellegrini e Rocco Moretti si passano una foto e poi Rocco Moretti dice quello mi voleva tagliare la testa a me e io gliel'ho tagliata a lui e sulla foto c'è la testa mozzata di Giuseppe Laviano gol trick e tracche, mitragliette, bombe a mano, esplosioni ormai siamo arrivati all'ottava guerra di mafia poi non ti puoi lamentare se la tua città diventa capitale delle estorsioni superata solo da Pescara nel 2014 anche se nel 2014 nasce la prima associazione anti-racket Giovanni Panunzio gli inquirenti provano a capirci qualcosa ma che cosa vuoi capire quando durante il maxiprocesso Corona che mette alla sbarra molti dei boss il comune non si costituisce parte civile ovunque a Roma contro mafia capitale in Sicilia contro cosa nostra in Emilia contro l'andrangheta è prassi che i comuni si costituiscano parte civile a Foggia no il sindaco dirà che ci sono state delle lungaggini degli errori burocratici ma c'è una parola per descrivere questo sindaco si dice frichigno è frichigno se noi non siamo in grado di fare quello per cui siamo chiamati andare al lavoro senza paura come Francesco Marcone il direttore dell'ufficio del registro di Foggia che nel marzo del 95 riesce a scoprire un giro di falsi mediatori che sotto pagamento riesce a far sì che possa essere messo a posto qualsiasi problema il disbrigo di molte pratiche ecco e siccome lui è un eroe borghese si oppone e dice no dice no perché è un eroe borghese è una persona per bene salvo poi essere freddato nell'androne di casa sua con alcuni colpi di pistola alla nuca Fricchigno qualcuno a proposito dello spareggio Foggia Napoli disse che fu la paura ad immobilizzare le gambe ai nostri calciatori ad immobilizzare tutta la città poi è andato tutto allo scatafascio la prima volta io e Foggia ci siamo salutati male come la primissima volta tra Zeman e Foggia poi lui però è tornato e anche io e ho ricominciato ad allenarmi mi sto armando per i miracoli perché i miracoli sono la fine della gradinata e io so come si fanno i gradoni qualcuno da lontano è venuto ad insegnarcelo non è che nasci divinità zitto e suda poi si vedrà il risultato è casuale la prestazione no pensavateci fossimo arresi soltanto perché all'epoca non abbiamo avuto il coraggio di urlare Fricchigno no nessuna nostalgia nessuna voglia di pareggiare ora tutti all'attacco la maglia nera non si eredita non dura per sempre e poi Fricchigno non è un nome da perdenti è un titolo che baffanculo ci sta ma t'ho visto Fricchigno mai visto Fricchigno si però giocatela si mister me la gioco si kart l'intrattengo 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 c'è la mia prima io l'intrattengo 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 Grazie a tutti.